ciao a tutti oggi vi presentiamo dei dolcissimi biscotti al cocco ingredienti 200 grammi di zucchero in polvere la buccia di limone 110 grammi di albume sbattiamo leggermente con la torchetta e passiamo E ora mettiamo in frigo per un 15-20 minuti. Dopo 15 minuti l'abbiamo tolto dal frigo, ora lo prendiamo un pochettino e schiacciate con il palmo della mano a modo di formare una pallina. Mettiamola nella teglia con una carta da cuore. Dopo aver formato le palline abbiamo messo una goccia di cioccolato ognuna. Ora inforniamo 5 minuti a 180 gradi. Dopo questi 5 minuti da 180 passiamo a 160 altri 5 minuti e poi a forno spettro lasciamo altri 5 minuti. Ed ecco pronti i nostri dolcetti al cocco. Sono leggeri e friabilissimi. Un gusto al limone particolare, provateli e poi mi direte se sono buoni. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.